La seconda parte inizia uguale, precisamente uguale, anche la parte melodica. Do maggiore, un arpeggio di Do. Una tensione, Re una tensione. Poi Mi7. Qua ho messo delle alterazioni, però comunque Mi7. La7, come prima. E arriviamo a Re minore, La7, la dominante del secondo grado. Poi dopo il brano sale un po', va al quarto grado. Questa parte qua, quindi Fa, è il quarto grado. Fa minore, sesta, quarto grado, minore. Poi, molte versioni ti danno il Do. Questa qua, il Do con la settima maggiore, primo grado. Poi Mi minore, La7. Il Mi minore e il Do con la settima maggiore sono, diciamo, dal punto di vista molto pragmatico, uno rivolto dell'altro. Il Mi minore è un rivolto, una specie di rivolto, il terzo grado minore è una specie di rivolto del primo grado. Però, se dobbiamo analizzare questo brano, questo terzo grado è un terzo grado minore. Comunque, Fa da secondo cadenziale a questo La minore, a questo La7. Il Mi e il La hanno un rapporto di tipo 2-5, no? Quindi, anche se è un terzo grado minore, questo Mi minore fa da secondo cadenziale a La7, che poi andrà a Re minore, effettivamente. Poi Sol, la dominante e Do, e poi la cadenza finale.